Domenica 10 ottobre Pesaro celebra la 71esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro promossa dall'ANMIL. Una ricorrenza che nell'ultimo biegno ha dovuto radicalmente stravolgere i propri parametri di riferimento affiancando l'analisi degli incidenti sul lavoro al numero di contagi da Covid-19 contratti nei luoghi di impiego. La rilevazione INAIL di questo mese di ottobre evidenzia infatti come nella provincia di Pesaro Urbino i contagi sul lavoro siano diminuiti del 71,5 per cento se passati dai 918 casi del 2020 ai 261 di quest'anno. Il settore maggiormente colpito dalla pandemia è nettamente quello sanitario con l'81 per cento dei casi registrati in ambito ospedaliero seguiti dall'8 per cento di casi nel settore della ristorazione. Ma dopo un anno in cui la pandemia e il tempo dello smart working hanno stravolto l'economia e portato i contagi da Covid-19 a diventare un terzo degli infortuni sul lavoro, ora invece sono tornati ad aumentare traumi, cadute e malattie professionali. Così fra gennaio-agosto 2021 in provincia di Pesaro Urbino ci sono registrate 2.515 denunce di infortunio, casi di Covid-19 compresi, ovvero lo 0,9 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2020, mentre i casi mortali sono scesi dagli 8 del 2020 ai 2 di quest'anno. Sono invece in aumento del 46 per cento le denunce di malattie professionali passate dall'834 del 2020 alle 1.218 del 2021. Tanti temi di riflessione che domenica mattina alle 10 al Centro Arti Visive Pescheria saranno affrontate dal presidente dell'AMMIL Fausto Luzzi alla presenza, fra gli altri, del sottosegretario al lavoro Rossella Accoto e dall'assessore regionale al lavoro Stefano Guzzi.